ciao ragazzi io sono nicodine sono ritornato con un nuovo video incontri principali walsburg versus mungladbach mi raccomando ragazzi lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e attivate la campanella andiamo questa è la mia proposta per la sfida di oggi ok come ben sapete ragazzi questi sono giocatori che io trovo nei pacchi quindi sono fatti con giocatori che c'ho già non sono comprati può essere che tra l'intesa cambia un po comunque andiamo a ritirare il pacco va bene 11 pacchettini non guardate il prossimo episodio perché in questo episodio quando finiamo porto versus boavista andiamo a fare anche il pacchettamento quindi ragazzi a dopo